Allora, buongiorno a tutti, sono Emanuele di Puntofoto. Siamo un'azienda esistente da anni sul territorio che si occupa di vendita di materiale fotografico a 360 gradi. Quindi i più grandi brand per fotocamere, obiettivi, carta per stampa, stampanti e poi siamo anche rivenditori di zetto per quanto riguarda le cornici. Siamo rimasti molto soddisfatti di questi tre giorni di fiera. È stata una fiera organizzata molto bene e distribuita molto bene e speriamo di partecipare anche negli anni successivi. Grazie.